ho comiuto entrati a casa oggi ragazzi siamo qua in questi due post roma 2 a 0 per la roma ma che cazzo mi frega c'è Allegri da fine partita complimenti grande allenatore grande si grande allenatore Max Allegri veramente un bravissimo allenatore mamma mia che scarso ma più che di lui c'è uno più scarso di Allegri è uno solo è il numero 1 il numero 1 nel vero senso della parola numero 1 scarpone scarpone indegno 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 fai schifo fai cagare fai cagare schifo fai schifo schifo mi fai ribrezzo mi fai vomitare vomitare e tutti che dicono Cesni è un punto un punto fermo di aiuto è il primo che dovrebbe andarsene è il primo è il primo è il primo figlio di puttana che c'è in questa squadra di merda Dio Porcinino come cazzo fai a giocare con sto stronzo in porta un handicappato ma come cazzo fai a dire che ha preso bene gli onori di Buffon ma non gli può neanche leccare i piedi a Buffon questo non può neanche leccare gli piedi un pippone che cazzo problema ogni tiro che prendiamo in porta è gol è gol ogni tiro ogni tiro ma qualunque tiro regà qualunque tiro qualunque qualunque ma me ne frega un cazzo se sono difficili da parlare qualunque tiro solo i tiri che prende quelli alti dopo la traversa gli tocca che cazzo mi frega che tolte quelli tiri fuori gli prende i tiri quelli uno contro uno quelli decisivi non le paratine quelle di merda che sa fare pure pinsoglio ma ce la fai ma ce la fai ma che cazzo mi serve un portiere così se abbiamo pinsoglio in rosa è meglio giocare con pinsoglio costa di meno costa di meno lo stipendio è meno che cazzo sei ma che cazzo ti vuole te ma che cazzo ti vuole sento parlare di Silesen ma che cazzo vuole anche Silesen ma che cazzo si è nel fregamento di Silesen veramente raga ma andate a prendere nel culo ma che cazzo è Shesney voce che piccio di merda voce che testa di cazzo voce che figlio di puttana voce che scarpone 2.0 voce che scarso come la merda voce che schifoso lunito bastardo questo è voce Shesney non è un portiere un coglione un coglione vorrebbe prima andare a vendere le rose al mercato zio cracker ma no 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 il secondo è con su Giacomo dove è andato perché ma no si è coricato per terra senza motivo oddio Gitrullo mi fa riprezzo il portiere mi fa veramente schifo pietà 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 per adesso niente è partita immeritata la sconfitta è immeritata perché abbiamo giocato bene meglio della Roma secondo me abbiamo giocato molto meglio della Roma cioè lì è quello un portiere l'altro mirante non Shesney mirante mirante un portiere non Shesney mirante la differenza è che uno gioca nella Juve che è il campione d'Italia con l'altro gioca nella Roma che non riesce neanche a arrivare in Champions League quale è più forte mirante cazzo che è più forte di Shesney mirante e allora che cazzo ce lo facciamo che cazzo ce lo dobbiamo fare non è un portiere così scarso così scarso così scarso così scarso voce Shesney scarso niente mi son rotto il cazzo di vedere queste partite mi son rotto la minchia basta Dybala io ti amo Dybala perché Dybala non fa gol 5 3 occasioni ha avuto per far gol Dybala non ha fatto gol mi spiace per lui veramente mirante gli ha preso perfino non so ma non ho capito di parlare basta mi spiace per Dybala Ronaldo ha fatto gol però era fuori gioco ma vaffanculo Allegri vattene a prenderne il culo ma soprattutto tu vuoi cercherli che non è fanno culo bastardo che non è fanno culo io mi spiace per come mi spiace per